Tutto finisce in me! Piazza! Che ci prenderebbe di ridurre quella cosa? Probabilmente dovrei aprirmi e lasciarmi indossare. Lì lui sarebbe felice, ma io... Forse... giusto un pizzico di meno. Ora quantomeno abbiamo una porta fra noi e il nostro simpatico mostro di quartiere. Il che è sempre una graditissima notizia. Separazione. È fatta, non lo sapranno mai. Non potranno mai saperlo, non capirebbero. Non mi perdonerebbero mai. Ma sono al sicuro, conta solo questo. Separazione. È l'unico modo. Thomas si è separato dal suo io spirituale. E quello è impazzito? È diventato un mostro vorace che vuole indossare la gente per riavere il suo contatto col mondo materiale? Cos'è esattamente? È ancora un po' misterioso, devo dire. Ora qui a sinistra... Ci sono cose dove probabilmente dovremo andare. Perché sento che qui ci mancherà energia, vero? Sì, sì, sì. Qui ci serve ottenere energia. E qui a destra... Niente. Quella è una stanza che va aperta in qualche modo. Interessante che fosse sotto la nostra casa. Qui adesso sto diventando strabico fortemente, per capire più o meno entrambi gli schemi se succede qualcosa. Mi sta dando molta difficoltà a scendere questa volta. Non so perché non gli piace la direzione. Ok. Qui è bloccato, giusto? Qui c'è il cursore fermo qua. C'è un segnalino ai piedi nel mondo spirituale che non capisco bene perché sia lì, ma... Sì, si è centrato sullo schermo di destra. Penso sia un bug. Ok. Nemmeno io, guarda. Non in questo schifo. Tanto saliamo. Potendo scegliere. Sono dei suoni davvero raccapriccianti. Che diavolo di posto è? Davvero. Cioè, molto, molto atipico. Allora. Si sembra come un po' fuori. Ma è un po' sotto l'acqua. Ok. Una way out. Ma più che altro è nel mondo spirituale, infatti, che la vediamo. Vedo dove sono arrivato. Uuuuh. Ok, qui non ci vogliamo andare. A meno che... Ahah. Me la fai così semplice? Ci mancherà sempre energia per farlo, vero? Ah no, abbiamo riaperto il collegamento di qua. Ah ok, era la porta che dicevo che avremmo dovuto aprire. Questo non cambia il fatto che serve energia. Un retaggio del passato. Quando ci imbattemmo per la prima volta nel luogo, pensavo che si trattasse semplicemente di un vecchio bunker tedesco. Un paio di corridoi e qualche provvista scaduta. E ora ci spieghiamo perché la casa è stata fatta qui. Questo era precedente. Dopo un paio di settimane di scavi ci rendemmo conto che il vecchio baffetto doveva avere grandi piani per questo posto. Alla titler? Siamo sceso troppo rapidamente. Un intero sistema di gallerie sotterranee, muri di cemento armato, non mancava nulla. Forse aveva intenzione di costruirsi un rifugio nella foresta, nel caso in cui tutta quella storia della razza padrona non avesse funzionato. I comunisti fecero quello che sapevano fare meglio. Se ne impadronirono. Volevano riconvertirlo in un rifugio anti-atomico, installarono persino una rete elettrica. Ma è tutto ciò che fecero. Poi il sogno del Niwas in Franse. Fortunatamente per me tutta la faccenda era super segreta e io mi sono assicurato che lo rimanesse. Per quanto ne so, quasi tutti quelli che ne erano a conoscenza morirono nel massacro. Non lo chiamerei proprio un risvolto positivo, ma poteva andare peggio. Se la situazione dovesse precipitare abbiamo un posto in cui nasconderci. Questo quindi era postumo a tutti gli eventi iniziali del Niwa. Che cosa stramba. Molti tasti. Ma non penso ci sia... Allora, water level indicator. Ok. Ne abbiamo a destra e a sinistra, dovremo bilanciare quei due. E water flow directions, which direction of water flow, initiate water pump. Ok, interessante che comunque questo non sia stato tradotto. Esatto. Perché, ovviamente, è. Questo immagino che fosse inevitabile. Torniamo per i nostri passi. Allora, immagino che non ci sia più la corrente comunque, ok? Non ho visto nessuna fonte energetica per ora, ma... Ok, di sotto questo ci bloccherà. Esatto, perché è ancora allagato. Qui è dove abbiamo visto l'uscita. Giro, giro tondo, casca il mondo. Casca la terra. Tutti giù per terra. Qui è bloccato. Perfetto. Era niente qua? No. Per un secondo ho pensato ci fosse qualcosa. Noi ci mancano cose da vedere qua dietro, se non sbaglio. Allora, qui c'è una valvola che non possiamo però interagire. Qui sarà bloccata, allora. Esattamente. Non so cosa segnalano quei suoni, ma... Non sono belli. Ok, sempre con la stessa visione della possibile uscita. Questo è nuovo, però, eh. Questa è roba nuova. Qui vediamo sempre... Aha! Non abbiamo neanche dovuto... Migliorare la questione in alcun modo. Uh, no, 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 no. Lì c'è acqua. Lì c'è tanta acqua compressa. No, 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 no. Questi suoni... Terribili. Torniamo su. Mamma mia, il panico. Dritto per dritto dovrebbe essere. Esattamente. Giù. E... No, non ho qualche cambio di camera, mia. Un attimo... Ho fatto perdere già il mio... Vag... Vaghissimo senso di orientamento. E qua. Ok, e... Ci siamo. Ok. Ah, no, aspetta. Noi dovremmo utilizzare i water tank. Oh, no. Oh, no. Ok, intanto dovrei aver permesso di poter andare sia a destra che a sinistra. Non c'è mai niente di semplice. Ah, sapete una cosa che mi è venuta adesso in mente? Questo simpaticone... Se ci dovesse inseguire il mostro e dovessimo scappare da quel lato a venire qua, è bene ricordarsi che qui possiamo elettrificare perché quello ci potrebbe salvare la vita. Quello ci potrebbe salvare. Se non ricordo male, era piuttosto sensibile. Ora qui dovremmo poter scendere però, no? Perché metà livello l'ho abbassato. Esattamente. Ma niente, questo è quanto. Quindi dove diavolo è il serbatoio con cui poter... Ah, aspetta, c'è qualcosa di... Wow. Altre energie e basta o... No, ok. È solamente un'altra fonte di energia. Sapete cosa dovrei fare? Dovrei controllare molto meglio il mondo spirituale in questa fase. Tipo, sì, passo di qua. Possiamo scendere? Aha, esatto. Di qua possiamo scendere. E fare cosa? Questo è bloccato punto e basta, vero? Sì. No, qui c'è altro che dobbiamo fare. Siamo potuti scendere solo per il fatto che non c'era... Acqua, ma... Non ci aiuta. E anzi, adesso ricarichiamo un attimo il tutto. Allora, probabilmente dobbiamo fare in modo, in realtà, di svuotare completamente uno dei due. Oddio, no, non mi serviva stare ancora così. Perché se svuotassimo completamente uno dei due, magari potremmo fare qualcosa. Qui non c'è niente. Qui eravamo bloccati anche... Vediamo se scendendo da qua invece troviamo qualcos'altro. No, 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 lo scudo, lo scudo, lo scudo. Ok, altra energia, ci piace, ma... Non c'era una mazza qua. No, è completamente inutile scendere fino a che non possiamo scendere con entrambe... Le nostre... Dualità. Chiamiamole così. Allora, aspetta, come era... Per la sala macchina mi sono perso qualcosa? O era da qui dietro, di qua? Qui è bloccato per entrambi. Sì. Giusto per essere sicuri. E qui da dove eravamo arrivati... Esatto, no, qui non c'era altro. Ok, ok. È labirintico, anche se in realtà ha una struttura molto basilare. Ma per qualche motivo mi risulta comunque facile perdermi. Allora, adesso sappiamo che... A scendere in forma spirituale si può sempre scendere, ma comunque abbiamo dei blocchi dopo relativamente poco. Di qua... Non vedo niente di particolare neanche nel mondo spirituale. Di qua abbiamo detto che possiamo scendere nel mondo spirituale, ma è inutile. L'ho provato anche qua, sì? Credo di sì, ma ho un enorme voto di memoria in questo momento, quindi almeno il tentativo lo faccio. Poi mi ritrovo, torno indietro. In realtà si poteva scendere anche nel... Cioè, avevamo già ridotto il livello dell'acqua, ok. Quindi potevamo scendere comunque, ma... Contento di aver ricaricato l'energia. Ok, siamo tornati a questo punto. Ora... Vediamo di fare ancora qualcosina qua. Allora, io voglio caricare... No, di qua, scusami. E qua... Esatto, esatto. Esatto, esatto. Così comunque abbiamo un tank disponibile. Oh, cazzo. Io l'elettricità l'ho piazzata subito. Guarda queste porte come sono cariche. Noi gli dobbiamo qualcosa. Questa è la sua impressione, eh. Ok. Speriamo che in quell'elettricità lo tenga a bada. Era qui che ci stavano quelle bestie di Satana? Era qua sotto? Non mi ricordo il lato in cui le avevo trovato, eh. No, evidentemente no. S**t. La Valve è missing. Por favor, stai azzurro, Valve. Valve. Dacci una mano. Half-Life 3. Qui c'è un foglio che stranamente non vogliamo leggere. Uno dei pochi. Lì dentro c'è la valvola, ok. Ma prima... Vediamo un attimo qui. That's... My way out. Staremo a vedere, immagino. Quanto semplice sarà o meno. Più o meno che più, vero? E ok. Vediamo se riusciamo a tornare di là senza essere ammazzati malamente. Playa, preti, prete golla. So many dolls to play with. Such pretty things to wear. Lillianne. Frances. Nurse Ursula. She was insatiable. Mannaggia Tu dici Tu hai questa impressione Cerchiamo di essere comunque discreti Piano, piano, piano Qui è tutta acqua giustamente Quindi mi si evince che ho sbagliato strada, maledizione Da che parte era allora? Perché il mio senso di orientamento è così Cannatamente sbagliato Quindi era di qua a destra Che la telecamera è fissa Però non mantiene un orientamento verso nord Quindi Ok, east chamber Togliamo Il nostro simpatico campo elettrico Piano, 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 piano Adesso Di qua Torna di là Double Tu vai nel central Di cattiveria E tu qua puoi Anche Andare Ah Questo serbatoio ne prende solamente metà di quello Ah Interessante Ok Quindi poi le due metà Si possono far confluire al centro Ma quest'altra parte mi preoccupa di più Perché non ho nessun tipo di scudo O elettrico Da poter sfruttare E sento che il nostro simpatico amico Vorrà direci la sua E quindi io Mi scuserete Ma Intendo abbastanza Prendermela Con calma Nonostante Sulle scale Io non riesco a essere furtiva In tutto il resto Posso Posso anche Attenere il fiato Posso Scudarmi Ok Ok Qui c'erano le bestie di satana Qui c'erano le bestie di satana E lì dovremo correre Però Ok E Pardon ma richiamoci Ok E qui abbiamo la valvola Aha Piano 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 Non facciamoci prendere dall'ansia Perché qui abbiamo qualcuno Che sicuramente vorrà darci Il suo saluto personale All the others Not enough Never enough Never fool Never worn And her Old Worn out Rag You Cut From the same cloth Lei dice Sento di aver sbagliato di nuovo strada Per qualche motivo Questa fortissima impressione Questa fortissima impressione Per noi 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 Ecco ho fatto tutto il giro Qua hai grossi problemi ragazzo Ma anche no Cambia brand Brand Marianne is out of stock Allora quindi Di qua E quindi noi questa metà possiamo già toglierla Giusto che riempie tutto E quindi ora andiamo a metà di qua E l'altra metà è già di là E questo è svuotato Ok Questo era il nostro obiettivo Ripassiamo da qua Che possiamo elettrificare per terra nel dubbio Nel grossissimo e forte dubbio Anche se quello ci taglia la via di fuga eh Ovviamente Trocca capire da che parte Saremo in qualche modo attaccati Cosa che Ha Chissà Qui noi c'eravamo già stati Credo E qui non siamo mai scesi più di così però Sto vedo che vi dico Un'altra ricaricatina Me la faccio molto volentieri Anche se Temo di essere in una laterale Non nel centrale Temo di star Di nuovo Sbagliando Esatto Perché qui c'è l'acqua adesso Non sento più la voce Quindi mi permetto di correre Quindi da qua torniamo al centro Ok forse era questo il centrale Diamo un'occhiata Esatto Lì adesso è la nostra way out Qui altra energia Qui c'eravamo state Ok 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 Hmm Palesemente sono Persa E di qua siamo sempre su una laterale Ok Questo è il settore 1 Di qui è dove siamo arrivati E non possiamo andare da nessun'altra parte di là Non possiamo scendere Cioè non dovrebbe essere complicato Ci siamo anche passati sopra Dovremmo essere qua sopra Esattamente Quindi noi dovremmo scendere a questa altezza qua Non vedo niente Non posso far scendere nulla Non posso cittare la mia discesa Da qua Quindi questa è la parte centrale Ma io non so come scenderci Se scendo da qua È comunque una laterale Posso vedere c'è scritto center chamber Questa è la È la Stanza centrale Ma dovremmo scendere di un altro Livello In qualche modo Per riavere accesso alla Center chamber Come vogliamo noi E non è da qui No Credo di aver capito Perché Allora Quando abbiamo Aperto l'area A destra Aveva detto Ah questa è la mia Way out Quindi Dobbiamo lasciare libera La parte destra E la parte centrale E la parte sinistra Totalmente allagata Credo sia questo il Il quid Quello che mi stava sfuggendo E con quello Dovremmo farcela Idealmente Ok Questo mi piace Di più Esatto Era questo Che ci mancava Era questo Che ci mancava Ora quindi È la parte In cui dobbiamo essere Dannatamente Più attente E se qualcosa di brutto Deve accadere in questo luogo Beh Sta per accadere ora Con calma E sangue Freddo E qui possiamo scendere Piano 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 Non ho idea Se il campo elettrificato Ci abbia salvato Da un inseguimento Sarebbe interessante Scoprirlo Eccolo qua Aperto L'ho premuto L'ho premuto L'ho premuto Ehm Lo sto tenendo premuto Eh ma Non so perché Forse perché Non l'ho premuto Subito Ma se io provassi A essere Proprio paravento E andarci così Ah Così ha funzionato Oh no Cazzo Dovevo immaginarlo Allora con Relativa calma Ti metti qua Ti stoppi Lui qua ci vede Benissimo Lui qua ci vede Benissimo Ok Si qui ci sta suggerendo L'esperienza Extra corporea Ma No No Non c'è cascata abbastanza Ok Il trucco era quello Ma era solo da correre Probabilmente Ah Ma quella è elettricità Aspetta Io Stavo sempre là A guardare le porte Ma Quella è un cavo Dell'elettricità Ah Quindi dobbiamo È previsto che lui ci prenda Là dentro E con la mariana Nel mondo Materiale Dobbiamo far scattare L'elettricità Sarà quello Cavolo Allora Penso che neanche Mi nasconda Guarda Via 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 Corri 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 Ok 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 Via 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 Io corro Perché non so se Ci sia o meno da Continuare a scappare No Thomas Uh Non so come faccia a sentire questo perché al momento ho talmente tanta adrenalina in corpo Che sento solo il mio cuore No La princesa A I Grazie a tutti.